Ciao ragazzi, oggi vediamo un esercizio a volo per lavorare in tensione continua i deltoidi. Deltoidi che sono un gruppo muscolare che risponde molto bene a stimoli sotto forma di stress metabolico. Quindi andremo a fare un'alzata laterale, si esegue l'abduzione di omero, mixata ad una sorta di isometria atta a enfatizzare lo stress metabolico. Quindi lungo il piano scavolare, si esegue l'alzata laterale, quindi il gomito leggermente avanti rispetto al busto e a questo punto si chiudono i manubri, questa è una parte in cui il deltoidi lavora in modo isometrico. Si torna alla posizione di partenza e si scende, sale, laterale e chiude in isometrica. Ho fatto anche un video sul six waist, magari ve lo lascio qui in alto nelle schede ma c'è una qualche ripetizione, che sarebbe la versione completa di questo esercizio. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Ciao!